e datemi un pizziotto e datemi un pizziotto uccireto 3 a 2 3 a 2 è finita 3 a 2 giornate mi pone assegnato capra la segnavo esordio orin è tornato anche orin ragazzi una giornata pazzesca della fiorentina 3 a 2 3 a 2 3 a 2 3 a 2 e l'europa ci si crede ci siamo anche noi per l'europa e ci siamo anche noi e ci siamo anche noi non l'avevo nemmen considerati sti tre punti ma adesso ci vuol la testa ma mamma io una grande fiorentina che ha saputo soffrire ma che ha saputo anche ripartire ha messo pressione al napoli una grande fiorentina nico gonzalez una partitone di nico gonzalez un partitone di cabral 3 a 2 3 a 2 in quel di napoli contro spalletti 3 a 2 strameritata mi sono un po spaventato si gol dogeman perché ragazzi l'igord mi devi saltare l'igord mi devi saltare mi devi spizzare questa palla me la devi spizzare all'indietro me la devi alzare non puoi rimanere piantonata a terra grande gol di hoci mè per la mordiglia ma mi devi spizzare quel pallone igor una grande prestazione non chiudila in bellezza grande bravi 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 orgoglio 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 cuore tutto è questa la fiorentina vogliamo vedere ma io ragazzi ve lo dico io avrei firmato per un pareggio video alla verità cioè ieri se mi avessi detto pareggio a napoli per fatemi firmare e invece no siamo andati a vincere meritando di vincere giocando un grande calcio e finalmente l'abbiamo visto anche jonathan ikon e il gol di jonathan ma che gol che ha fatto jonathan ikon e ma anche il gol di cabral ragazzi va bene finalmente cominciano a macinare sti giocatori e fiducia e fiducia sempre detto a me jonathan ikon garba un casino e l'ha fatto vedere diamogli la possibilità di giocare diamogli questa possibilità ma ha sorpreso anche l'ingresso di cori c'è uscito cabral pensavo entrasse pionti invece ha fatto entra a cori si vede pionti che ancora un dolorino ce l'ha ma grande cabral grande partita di sacrificio e dai ragazzi 3 a 2 contro il napoli ma chi l'avrebbe detto e ora sì che dobbiamo crederci ma credici in generale contro tutti contro tutti adesso non fa più paura a nessuno non deve far paura a nessuno grandi grandi ragazzi incredibile 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 allora cosa devo aggiungere cioè onestamente cosa devo aggiungere domani ovviamente usciranno il pagellone e tanto e tanto di di parlata si cacchererà un po del post partita delle dichiarazioni perché questa è la cosa a caldo ora si sta parlando di una cosa è finita due minuti fa e che ho sofferto fino all'ultimo fino all'ultimo sofferto con tutti voi perché sono tifoso perché ci ho creduto quando ho visto il primo tempo i gol di gonzalo su tutto stiamo armi stiamo armi ma c'è questa viola c'è poi certo quando assegnai cinquantottese cinquantanovese mano pareggiavo perché ti ha perso il pallone era detto sta a vedere adesso invece subito ci abbiamo creduto 2 a 1 3 a 1 poi 3 a 2 l'ho appena detto igorino saltami ma grande partita di tutti ragazzi ma 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 io non so se vi rendete conto siamo andati a vincere a napoli lasciate perdere la coppa italia che io non l'ho mai messa in paragone io non ho mai parlato siete fatto in coppa in coppa italia c'era un altro napoli c'era un napoli completamente rivoluzionato erano panchinari questo era un napoli titolare questo napoli è appunto allo scudetto e ne ha prese 3 e ne ha prese 3 e ne ha prese 3 e che e che e come le ha prese gli ha presi dagli esterni hanno segnato gli esterni gonzale seconde e poi l'attaccante finalmente sono troppo casa ora che sono troppo felice sono troppo felice che devo dirvi commentate con la vostra felicità ma incredibile incredibile ragazzi è proprio cioè non so veramente cos'altro aggiungere su questo perché questo è infatti il video finisce ora perché ha solo gioia è solo gioia non ciò da diritto bravo a vincenzo italiano bravo a vincenzo italiano e son 53 e son 53 mocia salernitana e poi c'ho venezia ed è una ss punti e son 59 poi c'è l'udinese deve essere altri tre punti e quindi alla fine della fiera sono 12 punti e quanto fanno questi 12 punti 62 punti e poi ovviamente c'è la testa alla coppa italia perché adesso ovviamente quando sarà si va lì per vincere si va lì per giocare a pallone perché questa la fiorentina vogliamo vedere una che non guarda in faccia chi c'ha chi c'è napoli salernitana a venezia no me ne frega niente è un avversario lo devo disintegrare lo devo annientare calcisticamente parlando mi devo imporre siamo andati a napoli a imporre il nostro gioco e voglio vedere chi dice il contrario voglio perché tanto lo sappiamo lo sappiamo domani ne parleremo ma quanto si lamenterà a napoli eh ma il fallo eh il cartellino eh non è fuorigioco eh di chi eh di là quanto si lamenteranno e noi invece no zitti zitti andiamo a goderci questa vittoria andiamo a sostenere i ragazzi andiamo ad applaudirli quando tornano a Firenze questa è Firenze questa è Firenze ciao e forza viola a domani eh pagellone e tanto di commenti post del giorno dopo eh mi raccomando non mancate iscrivetevi tanti like e come sempre link in descrizione solite cose ragazzi mi raccomando vi aspetto domani condividete questo video con tutti perché domani pagellone di voti pem 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 altissimi a tutti quanti sempre forza viola Fiorentina 3 Napoli 2 la viola vola 53 punti e ragazzi e lassù comincia a sentire una certa musichina conference Europa chi lo sa ma è comunque una musica diversa dalla serie A ciao e forza viola